Allora, ritorniamo in diretta insieme al direttore Bruno Vespa, grazie direttore di essere qui, che presenta da noi La Grande Tempesta, il suo libro, il suo ultimo libro, il suo ultimo successo. Ti ringrazio, onorata che tu sia qua oggi, sai che siamo in diretta dalle 10 di questa mattina, da quando è partita la nostra trasmissione oggi, in questo lunedì, l'ultimo saluto a Sinesa Mialovic, siamo in diretta con il nostro Edoardo Lucarelli, fra l'altro l'avevi ospitato nel 2021. Ma sì, guarda, l'anno scorso, io sono rimasto molto legato a Mialovic, non tanto per la sua capacità sportiva che era enorme, ma per la sua straordinaria sensibilità umana, e lui venne proprio per raccontarci come si affronta una malattia, e io ebbi, evidentemente sbagliando, la sensazione che l'avesse superata, insomma, perché tante leucemie adesso si curano, si... Sì, perché lui aveva questa forza, no, che trasmetteva... Ah, straordinaria, straordinaria. Ecco, vediamolo quel momento, era febbraio del 2021. Senta, la malattia era cambiata. Sì, penso di sì. E l'ha migliorata. Il mio obiettivo, quando mi sono ammalato, era prima di tutto rimanere in vita, non morire, perché non potevo lasciare a non vedere i miei figli a crescere, a mia moglie, a avere un giorno nipotini, o vedere mia madre piangere davanti all'avanzale a letto, perché non è questo il ciclo della vita. E sicuramente la mia famiglia e i miei amici, poi tutti, tutta la gente da Serbia, da Italia, gente famosa, non famosa, tutti quelli che mi hanno mandato... E, diciamo, mi sono sentito molto voluto bene da tutti, che non è una cosa che mi è capitata mai, perché, come si diceva anche all'inizio, io sono stato sempre un uomo divisivo. Non sono stato mai un uomo che univa tutti, invece, con questa malattia, praticamente ho unito tutti e sicuramente mi ha dato la forza per combattere e per vincerla. È stato molto forte quello che ti ha detto. Combatterla e vincela purtroppo non ce l'ha fatto, ma guarda, veramente ha dato una lezione di vita, di forza e anche di speranza, al di là di come è finita, veramente straordinaria. E perciò capisco che ci sia tanta gente... Ecco, direttore, infatti è incredibile perché Edoardo, il nostro Edoardo Lucarelli è in diretta da un'ora, le funerali hanno iniziato alle 11, cioè più o meno 35 minuti fa, Edoardo, però se il nostro Edoardo ci aiuta a mostrare la piazza, la piazza tutta oggi che litiga con il microfono, Edoardo. Ecco, una piazza gremita di persone, è un'immagine incredibile. Io, direttore, non pensavo veramente, cioè l'effetto che lui aveva era tantissimo, ma qui stiamo parlando veramente di un popolo che oggi è andato a salutarlo, che non è solo un popolo legato al suo mondo, cioè al mondo del calcio. Cioè perché non è legato, tra l'altro Bialovic, non è legato allo sport di Roma, quindi capisco, un giocatore della Roma, un allenatore della Roma, quindi veramente è impressionante. È impressionante, è impressionante, sono assolutamente d'accordo con te.